You are very welcome to our YouTube channel of Camerata Mandalino Classico, a channel for lovers of baroque and classical music, on YouTube. Benvenuti al nostro canale della musica ed animazioni. Vorremmo presentare musica di Vivaldi, Bach, Mozart e Beethoven e musica francese dal Settecento. Ciao a tutti. Hello, everybody. Buon ascolto. Please enjoy. Signore e signori, vorremmo sonare, l'adagio, e l'allegro, dalla bellissima sonata numero 11, del grande maestro, Wolfgang. Amadeus, Mozart. Abbiamo fatto un arrangimento per il clavicembalo. E il mandolino. Speriamo la piace. Grazie a tutti. Buon ascolto. Buon ascolto. Buon ascolto. Buon ascolto. Buon ascolto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.